Ciao e bentornati su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme un'altra maglia della stagione 2022-2023, la maglia del Tottenham, la prima maglia, nella versione FUN, quella dedicata ai tifosi. La maglia di casa del Tottenham Hotspurs 22-23 è prevalentemente bianca, con una cucitura circolare sul petto. Il colletto e i polsini delle maniche della maglia HOME del Tottenham 2022-23 sono entrambi blu navi, con una legna giallo fluo al centro. Anche all'interno del collo della maglia da casa del Tottenham Hotspurs è giallo fluo e presenta una serie di scritte Spurs in blu scuro, sia riempite che delineate. Nike non è estranea a modelli e design audaci, tuttavia questa maglia degli Spurs sembra mantenere le cose un po' più semplici. Lo sponsor sul petto è di colore rosso, come quello della maglia attuale, trovata in alto a recensione. Wow! Questa maglia, nella sua semplicità, secondo me è favolosa. Nella mia personalissima classifica, questa prende 4 stelle e con questo colore fluo, devo dire, mi piace molto, molto bella. Poi mi direte voi nei commenti cosa ne pensate. Peraltro è fatta benissimo, benissimo, devo dire le rifiniture tutte corrette, cuciture perfette, le patch giuste. Incredibile, si trovi veramente a un costo bassissimo, che trovate qua sopra. Peraltro anche la spedizione è stata abbastanza veloce, in questo caso 4 settimane, altre volte addirittura è stata più veloce. Vi ricordo che in descrizione, qua sotto, trovate tutti i riferimenti per acquistare la maglia. Ora, prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete la vestibilità, spero che il video vi sia piaciuto e spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75m e peso 70kg. Quella che vedete è una taglia media della versione Fan. Grazie a tutti!